E salve a tutti ragazzi da PierreDarkNight91 e come ogni anno eccoci qui nella demo di PES 2019 Quest'anno 2019, l'anno scorso 2018, due anni fa 2017, yeee! Come sempre vi ricordo che questa non è una recensione ma le mie prime impressioni sul gioco Visto che ogni anno questo è il video più criticato Vi dico anche che non ho mai testato PES, l'ho solo scaricato e quest'oggi insieme a voi Andrò a fare due partite per la prima volta E quindi se non mi piace il gioco lo dico, se mi piace lo dico Se non vi piace la recensione, la recensione, scusate ma se non vi piace, non vi piacciono le mie prime impressioni Cambiate video e andate da quelli pagati direttamente dalla Konami Per sentire che il gioco è bellissimo, è fantastico ed è stupendo Pagato, pagato Vi chiedo di lasciare 1000 like per una nuova puntata dove testeremo altre squadre Mentre se arriviamo a 5000 like prenderò in considerazione di portare una serie quest'anno su PES 2019 Quindi esibizione, andiamo a scegliere una squadra Io andrei a fare Barcellona-Inter così come sta Andiamo a mettere ovviamente per testare il gioco al meglio Andiamo a mettere la difficoltà massima ovvero Superstar Perché a me non piace giocare come Bimbi Nutella Quindi giochiamo alla massima difficoltà Non mi interessa neanche fare la formazione Lo stadio penso ci sia il Camp Nou perché il Barcellona è sponsor ufficiale di questo gioco Così come se non ho visto male, se non ho sentito male Così anche l'Inter Diciamo già si presenta benissimo perché vediamo Piquet e Borca Valero Borca Valero Che sono identici Le divise le lasciamo così ma vediamo anche quella dell'Inter secondaria Bella, bella Quella dell'Inter è bellissima Va bene così Stadio, calcio d'inizio, impostazioni, schema di gioco Vediamo un po' come è lo schema di gioco giusto per farci un'idea Ok con i volti Mi piace Impostazioni telecamere, impostazioni sistema Ok Iniziamo Ok Allora Già si vede un bellissimo colpo d'occhio Oh bello, bello Il tunnel come lo scorso anno Abbastanza Realistico C'è Lo stadio che Non mi dispiace Vediamo il campo quest'anno Lo scorso anno l'erba Era Come dire Finta Cioè non si vedeva proprio che si alzava Vediamo quest'anno Sembra esser migliorato il tutto eh Quindi ragazzi se a me piace il gioco dico mi piace Se non mi piace vi dico non mi piace Non mi interessa Che poi ci siano persone Fanboy di PS e FIFA A me non interessa Io l'ho detto quest'anno Nella demo di FIFA 18 Avevo detto che il gioco sembrava bello Invece è stato il peggior FIFA FIFA 18 Mamma mia Inguardabile È un gioco che Non ti dà sfida Né in difficoltà Né sul calciomercato L'unica cosa che avevano migliorato Che hanno migliorato È L'ultimate team Vedremo Su FIFA 19 Mentre su PES Già qualche miglioramento Lo noto Ecco la formazione dell'Inter C'è Icardi Perisic Borca Valero Candreva Brozovic Vesino D'Ambrosio Miranda Skriniar João Cancelo Che adesso è della Juventus Va bene così Vediamo un po' i volti Fatevi ci Oh Miranda Un Titi Eh Andanovic Così è così Messi è identico Bellissimo Messi Eh l'erba Guardate Quest'anno l'erba È migliorata Va bene Iniziato Vediamo un po' com'è la giocabilità Abbiamo il Tiki Taka Mamma mia signori Tiki Taka Pubblicità Ah no ho sbagliato Allora Vediamo un po' Sergi Roberto Facciamo girare il pallone Sto già notando che il controllo dei giocatori Non è quasi più a binario Bello questo passaggio d'esterno Oh Oh Signori Signori Vedremo anche la difficoltà Vedremo se i portieri Sono migliorati Perché lo scorso anno i portieri non ne paravano una Quindi Andremo A testare anche i portieri Se riusciremo a tirare in porta Perché ho messo la massima difficoltà E lo scorso anno Già sulla difficoltà Ho apprezzato PES Perché a differenza di FIFA PES era molto più difficile Anche c'è da dire anche che PES L'ho giocato tantissimo tempo fa L'ho abbandonato Sono nato con PES Con Pro Evolution Soccer O meglio Winning Eleven Ma poi L'ho abbandonato Perché non ci sono stati più progressi Anzi Ci sono stati Davvero tanti passi indietro Invece quest'anno Sembra già dai movimenti dei giocatori Che Possa Apprezzare questo titolo Non mi dispiace Non mi dispiace Non mi sta dispiacendo per il momento Attenzione Fuori gioco Uh Attenzione a quella rovesciata Si continua Sergi Roberto Facciamo girare il pallone Rakitic Il tocco a Coutinho Coutinho si gira Ancora Coutinho Il tocco all'indietro Attenzione Pallone in mezzo Oh Spazza Skriniar Una cosa che mi piace di PES È La fedeltà dei giocatori Con la telecamera a distanza I volti sono fatti bene Anche se Io Non valuto un gioco su La grafica Cioè Deve essere difficile Mi deve divertire È già finito il primo tempo ragazzi Si è Davvero Come dire Molto corto Il primo tempo Il secondo tempo Però posso dirvi Già Guardando I primi passaggi Che Non mi sta dispiacendo Non guardo La fedeltà del viso Del giocatore Ma Devo vedere se c'è sfida Nel gioco Ma soprattutto Devo capire Se poi Con La Master League C'è difficoltà Nell'acquistare un giocatore Cosa che su FIFA Quest'anno È un'emerita Cavolata Infatti Come avete potuto notare Nel frattempo Bello il contrasto Di Messi Non so Per quale motivo Mi abbia dato La punizione Va bene Comunque dicevo Quest'anno su FIFA È davvero imbarazzante Almeno su FIFA 18 La questione Calciomercato Attenzione Siamo partiti Attenzione Se può andare Messi Attenzione Messi 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 Lione E al primo tiro in porta Il portiere Non ha parato Sperando non sia Inguardabile Come lo scorso anno Il portiere In generale Ok Primo gol di Messi Siamo partiti Un bel 1-2 Poi Messi Andato in contropiede Va bene così Ecco qua Suarez Di esterno Bello il passaggio Dobbiamo provare A tirare più sulla distanza Per capire se il portiere Para Comunque mi sta piacendo Signori Non mi dispiace Ovviamente Se volete Sapere Cosa ne penso Delle licenze Che mancano A PES Beh allora Vi consiglio Di rivedervi La mia valutazione Sulla prova Di PES 2018 Cioè Sempre la stessa cosa Penso sempre Alla stessa cosa Nel senso Che se Vediamo adesso Se tira Icardi Se il portiere Prende gol Chiusura Di Piqué Icardi Dicevo Comunque Attenzione Dicevo Pagare un gioco A prezzo pieno Senza licenze Per me Non va bene Per me non va bene Poi ragazzi C'è chi La pensa In modo diverso E va bene così Però Io vi dico Ciò che penso Ciò che Secondo me È giusto E non è giusto È pagare 70 euro 60 55 Qualsiasi cosa Comunque Il prezzo di listino A prezzo pieno Un PES Senza licenze Già secondo me Non è tantissimo giusto Sì lo so che Possiamo editare noi Le squadre Ma lo facciamo noi Non lo fanno gli sviluppatori Quindi Non vale Il prezzo pieno Anche se la giocabilità Quest'anno È bellissima Vediamo se riusciamo a fare Il secondo tiro in porta Settantottesimo Dobbiamo vedere I portieri Signori Bene così Fallo Fallo Non lo fischia E fallo Questa volta D'Ambrosio Scambia Perisic Se ne va Perisic Pallone in mezzo Chiusura È ok Andiamo Ripartiamo Vi ricordo che questa È una demo E quindi Il gioco può ancora migliorare È anche tanto Proviamoci dalla distanza Mannaggia Dovevo provare A tirare dalla distanza Per vedere se il portiere Era reattivo Al massimo possiamo prendere Una squadra un po' più scarsa Contro Per cercare di fare più tiri in porta La prima partita l'abbiamo vinta La massima difficoltà Superstar Quest'anno Sembra Essere molto più giocabile E mi sta piacendo tantissimo Anche se le compenetrazioni Se le potevano un po' risparmiare Vabbè Fa niente dai Ok prossima squadra Io mi vado a prendere il Liverpool E utilizziamo Un'altra squadra italiana Il Milan Ovviamente io Scelgo il Liverpool La difficoltà è di nuovo da impostare Vediamo un po' No superstar Va bene così Quindi il calcio d'inizio Liverpool Milan E vediamo anche un po' I volti Non è aggiornata La squadra del Milan Non c'è ancora Iguain E quindi non possiamo vedere Come è fatto Iguain Ma se lasciate Mille like Proveremo l'argentina E vedremo come è fatto Iguain E ovviamente Continuerò a dare Le mie opinioni Adesso Andiamo a fare Calcio d'inizio E vediamo questo Liverpool Milan Fateci vedere ancora Volti Fateci vedere ancora Volti Forza ragazzi Oh Bello L'erba che si muove Anche se l'erba È ancora un po' Pixelosa Va bene È iniziato questo match Sempre alla massima difficoltà Testiamo come sempre Il gioco E vediamo Come va a finire Proviamo a tirare Dalla distanza Anche se non vinciamo Proviamo a tirare Dalla distanza Per capire Se i portieri Sono reattivi Parano Oppure come l'anno scorso Prendono imbarcate Di gol incredibili Allora Salah può andare Attenzione Parte Salah Ecco qui Uno contro uno Attenzione Prova a saltare Prova a saltare Tocca a Mané Sbaglia il passaggio Su Mané Mané Tiene il pallone Prova il tiro Fuori Attenzione Perché contro Abbiamo Donnarumma E quindi deve parare È molto 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 Più divertente Il gameplay Di PES 2019 A differenza Di FIFA 18 Attenzione FIFA 18 Non FIFA 19 FIFA 18 È stato il FIFA Più brutto Degli ultimi 10 anni Secondo me Anzi No Ultimi 10 No Ma ultimi 5 Sì Sia per il calciomercato Sia per la difficoltà C'era gente Che mi diceva Che non giocava La massima difficoltà Attenzione Se ne va a Mané Proviamoci Proviamoci Vediamo se para 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 Donnarumma Ma dobbiamo Continuare a testare Il portiere del Milan Rivediamo Il replay Qui il difensore Si è un po' addormentato Per essere massima difficoltà Però Il portiere Poi ci ha messo una pezza Ci può stare Dobbiamo provare E testare anche Le scivolate Perché lo scorso anno Era un po' diventato Mortal Kombat Più che PES Facevi tante scivolate Il direttore di gara Non fischiava mai Attenzione al Milan Ci prova Pallone e mezzo Palla che filtra Non arriva nessuno Adesso Palla al piede per noi Ce ne possiamo andare Dobbiamo continuare A testare questo gioco Che mi sta piacendo Diciamo A primo colpo Ma bisogna Giocare più partite Per incominciare A dare un giudizio Attenzione Bonucci Come L'annata Nel Milan Fa solo pasticci O quasi Attenzione Kalinic Speriamo non sia Come lo scorso anno Dove Non subivi Tiri in porta La massima difficoltà Ma al primo Prendevi gol Vediamo un po' Pallone e mezzo Sbaglio e cross Possiamo ripartire Ragazzi Sto per dirvi Regalatemi PES 2019 Per favore Perché io Non sono pagato E non ho la copia In regalo Allora Finisce il primo tempo Scorre subito il tempo Troppo veloce Troppo veloce Per dare un giudizio Mamma mia Buonaventura In naso un po' Più lungo Lo potevano fare Va bene Andiamo nel secondo tempo Possesso di palla Più per il Liverpool Ovviamente Basso un po' In cuffia Il volume Perché se no Non ascolto Ciò che dico E potrei dire Cazzate Le dico sempre Però Rodriguez C'ha la Noglu Oh Che è sta cavolata Attenzione Ok ci abbiamo messo Il piedino Ci abbiamo messo Il piedino Spazza Carius Non fare cavolate Sbaglio e rinvio Ok Possiamo riandare Pallone lungo Dove c'è Manè Manè in velocità Se ne va Manè Attenzione Manè A Manet A Manet Attenzione A Manet La mette in mezzo Colpo di testa E la parata di Donnarumma Attenzione Attenzione I portieri adesso Si muovono Molto più velocemente Anche se Stilisticamente Non mi fanno impazzire Però sono molto più efficaci Questa cosa È da Apprezzare Andiamo avanti Grande parata Fallo Fallo Fischia Fischia Quest'anno fischia L'anno scorso Con questo intervento Non c'era neanche punizione Qui in altro polo Ammoniva E quindi Bene così Posso dire che La maggior parte Dei giocatori Anche del Milan Sono identici È positiva Come cosa Pallone in mezzo Attenzione Bello Salah colpisce male di testa Peccato Chiudilo Chiudilo Carius C'è C'è Carius Signori Il rinvio Ottimo All'indietro Rischiamo Sbagliamo il passaggio Disimpegno Sbagliato Attenzione A Milner Adesso Che va a pressare Che sì Milan Si comporta bene Rodriguez Cambia dall'altra parte Sbaglia il passaggio Sbagliano molti passaggi Alla massima difficoltà Questo c'è da dire Non è molto difficile In fase difensiva Ovviamente È una partita Molto Attenzione Buco difensivo Del Milan Possiamo andare Proviamo il tiro Attenzione a questo tiro Donna Rumma La blocca I portieri Sembrano Ufficialmente Migliorati Sono più efficaci Deviazione Palla che rimane lì Attenzione Che cos'è Punizione dal limite Punizione dal limite Cosa è successo Non ho capito Cosa sia successo Vediamo un po' Suso Palla al pie Eh mamma mia Ma che Vabbè Quest'anno Mi sa che fischiano Di più Dello scorso anno Molto di più I direttori di gara Attenzione A questa punizione Salta la Bacarius Incredibile Apparato Carius Non è molto reale E Karius Che para Non è molto reale Attenzione Lovren Ottantottesimo Ce ne andiamo Attenzione Ultima azione Ancora Ancora Liverpool Passaggio al centro Dove c'è Mané Mané Attenzione Poteva esserci fallo Finisce No punizione Punizione Ultima Azione Fallo di Bonucci Noi vediamo tutto Quest'anno Giusto per Capire un po' Le animazioni Vediamo Mané Vediamo se il contrasto Tocca il giocatore Sì Ragazzi Quest'anno PES È migliorato Tantissimo Proviamo a tirare in porta Giusto per capire come sono le punizioni Milner Forse è troppo forte Uh Bello 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 Bella Bella punizione Guarda 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 Peccato che la palla Non sia scesa Bene Bene Signori Allora Le mie prime impressioni Un PES Molto 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 Migliorato A differenza di quello dello scorso anno Almeno in queste prime due partite Non notiamo quasi più i binari a terra Cosa vuol dire? Il giocatore nel momento in cui sterza Sembra avere un binario sotto E quindi fa degli scatti Che non sono molto reali Quest'anno sembrano Guardate Quando girano i giocatori Girano A 360 Girano molto bene Hanno libertà di manovra E quindi si possono fare anche Dribbling al millimetro E questa È una cosa positiva A differenza dello scorso anno Perché si sentiva ancora Il giocatore meccanico E come ho detto lo scorso anno Sembravano tanti bobovieri Quest'anno Non è così Quindi Sulla Gestione della palla del giocatore Do anche 9 Anche 10 Mi è piaciuto tantissimo I portieri Anche se ho tirato pochissimo Sembrano migliorati Abbiamo fatto un gol Contro l'Inter Con Messi A tu per tu con il portiere Ci può stare Il gol Donnarumma qui È stato davvero molto bravo I giocatori Somigliano tutti Unico neo Che posso dare Unica nota Stonata Sono le licenze Come sempre Ma Non possiamo farci nulla Lo sappiamo benissimo Dobbiamo dare fiducia a PES E se diamo fiducia a PES In futuro Avremo anche tutte le licenze Che questo sia l'anno Giusto per questo titolo Io lo spero tantissimo Se avrò la possibilità Qualcuno Mi Darà la copia del gioco Lo porterò Molto volentieri Ma Se lasciate mille like Vi porto una nuova puntata Sempre sulla demo Per testare Nuove squadre E quindi Continuare A dare le mie prime impressioni Mentre Se arriviamo A Cinquemila like Ragazzi Cercherò di comprarlo Perché a me Sta piacendo Sta piacendo E sono Come dire Soddisfatto Anche se C'è da dire Che Non abbiamo visto La master league Non abbiamo visto Il calciomercato Perché lo scorso anno Il calciomercato Come due anni fa Il calciomercato Con Diciamo Le clausole Che c'erano Esempio Di Bala lo potevi acquistare A pochissimo Anche Cristiano Ronaldo C'è Potevi acquistarlo Con un prezzo Minore Del valore Del giocatore Se Esempio Cristiano Ronaldo Valeva 200 milioni A 75 milioni Te lo portavi a casa Così come Di Bala Perché avevano Una clausola Recissoria Troppo bassa Ed è sbagliato E quindi Togli tutta la sfida Tutta la difficoltà Nell'acquistare Un giocatore Un top player E questo È da migliorare Cosa posso dire più ragazzi Per il momento Soddisfatto Continueremo A parlare di PES Nelle prossime settimane Ovviamente Chi Ha da dire Eh ma non capisci nulla Oh stai parlando male di PES No Non sto parlando male di PES Dico ciò Che penso Senza Il compenso economico Senza il compenso economico Perché se parli bene La copia di gioco Te la danno Se parli male La copia di gioco Non te la danno E io queste cose Non le dovrei dire Capito? Quindi Se a me fa cacare un gioco Lo dico Se a me piace Lo dico Perché Io sono un influencer E quindi Influenzo L'acquisto su un videogioco E quindi devo dare Per forza E con tutta onestà Il mio parere Su un gioco Quindi Se pensate che PES 2018 Sia uguale a PES 2019 Sbagliate di grosso PES 2019 È migliore di PES 2018 Almeno in queste prime due partite Vedremo con Che ne so Il tempo aumentato Perché abbiamo giocato pochissimo Vedremo se faremo 10 tiri in porta Quante volte il portiere para Su 10 tiri in porta Vedremo anche se Con una lunghezza Del tempo Facciamo 15 gol A partita Alla massima difficoltà Non a me è sembrato Difficile Alla massima difficoltà Difendere Ma ricordiamo Che è una demo Così come due anni fa Ho testato il gioco E nella demo Segnavo in rovesciata Poi nel gioco ufficiale Perdevo tutte le partite Anche se giocavo con Il foggia Che avevo creato Quindi Ragazzi Capite bene Che La demo È una cosa Il gioco Finito È fatto È un'altra Ragazzi Io vi do un bacione Un abbraccione Ragazzi Per il momento Vi consiglio L'acquisto di PES E mi sa che Se FIFA Non ha migliorato E FIFA 19 È uguale A FIFA 18 Su calciomercato Su Il gameplay Su determinati errori Che ho visto Inguardabili Posso dire Che PES Si è avvicinato Tantissimo Quindi attenzione FIFA Cerchiamo di non fare Cazzate Quest'anno Visto che FIFA 18 È stato proprio Un furto In tutto e per tutto L'unica Modalità Che hanno migliorato Su FIFA 18 È l'ultimate team Stop Tutto il resto Ha avuto Un passo indietro Un bacione Un abbraccione Ci vediamo Nella prossima puntata 1000 like Nuove sfide 5000 like Acquisto il gioco Bacione a tutti Un abbraccione 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 Grazie.